Simona Izzo perché lei è una vittima, ha subito un furto. No, sono una rapinata seriale, nel senso che abbiamo subito circa otto furti da quando sono insieme a Ricchi, ma ho subito anche due furti quando ero con un altro marito, quindi penso che la vittima sia proprio io. Penso che mi seguano, non lo so. Detto questo ho subito furti in appartamento, furti anche in casa. Quando è stata la prima volta? Come è iniziato? È iniziato con un furto di tappeti, mi ricordo allora si rubavano i tappeti perché avevano anche un grande valore, non so, erano pesanti e non hanno trovato in casa gioielli perché non avevo ancora messo la cassa a porta, erano sparsi. Dopodiché il secondo furto è stato... Dopo quanto tempo sono rientrati di nuovo in casa? Sempre nella stessa casa dopo tre anni, nonostante le inferiate, nonostante i dispositivi, insomma diciamo che abbiamo a disposizione le armi legittime, il controllo, tutto. Certo non ho le guardie armate a casa, non me le posso permettere. È vero che avete addirittura blindato la camera da letto? Abbiamo blindato la camera da letto che ha due porte, infatti però devo dire il penultimo furto lo hanno fatto sotto, noi abbiamo due piani nel piano inferiore, noi non abbiamo sentito per fortuna niente, hanno mangiato anche il risotto che era avanzato, anzi l'arrosso di maiale che aveva fatto Ricky, quindi hanno fatto tutto, hanno preso anche la nostra macchina. L'ultimo furto è successo... Hanno smurato una volta la cassa a porta? Due volte. Hanno smurato proprio letteralmente tirata a porta a muro. Proprio diverto e smurato, tanto che abbiamo pensato che l'avesse fatto con molta perizia chi l'aveva montata. Io ne sono quasi certa. Ho fatto nomi e cognomi ma non è successo niente. Io penso che, adesso al di là del gioco e dello scherzo che mi seguono, però certo è che forse, siccome arrivino ogni 4-5 anni, pensano che ogni 4-5 anni una donna si possa ricomprare quei gioiellini che era riuscita ad accumulare nella sua breve o lunga vita. Mi danno il tempo di rimpinguare, cosa che io non ho fatto, quindi stavolta è andata male. L'unica cosa che davvero mi ha... Ma la blindatura della camera da letto poi come funziona praticamente? Funziona. Mi chiudete quando... Ci chiudiamo a chiave in camera da letto. Quando andate a dormire. Quando andiamo a dormire. Adesso mi chiuderò pure il pomeriggio perché sono terrorizzata. Ci chiudiamo in camera da letto in modo che facciano della casa ciò che vogliono, ma almeno salviamo anche di giorno o sempre di notte. Anche durante l'anno o solo quando siete in vacanza? Questa volta, allora, c'è stato un furto che aveva anche un titolo, che era In questo mondo di ladri. Ricchi stava girando, non voglio sdrammatizzare, ma forse sì, Ricchi stava girando un film che si intitola In questo mondo di ladri, peraltro titolo di una canzone del mio ex marito, e mi telefonò la persona che si occupa della casa e mi disse sai hanno portato papà in ospedale, quindi io mi preoccupai molto. Dopo mezz'ora mi telefonò piangendo e io dissi oddio, è successo qualcosa a mio padre, e invece mi hanno detto hanno divelto la cassaforte e preso tutto ciò che c'era. Allora, quello fu un colpo grosso perché andavamo al mare, per cui io lasciai tutto a casa. L'ultimo giovedì, questo giovedì, quindi sono fresca fresca di rapina. In questo caso è stata proprio una rapina perché in casa c'erano due persone, le persone che ci aiutano a casa. Noi siamo usciti alle 5, devo dire che ho dimenticato di mettere l'allarme e quindi ho agevolato, perché loro erano usciti, poi sono tornate le persone di servizio e quando sono tornate si sono resi conto che in casa c'era tramestio, c'erano rumori, ma non così. Peraltro hanno usato il frullino, peraltro hanno preso ancora una volta la cassaforte, hanno chiamato la polizia e quando sono arrivati, quando è arrivata la polizia perché la polizia è arrivata, hanno trovato il cancello, un cancello che si dovrebbe aprire, e lo hanno bloccato. Quindi era la prima volta che mi succede, in tutti i miei furti nessuno ha bloccato un cancello, quindi per non fare entrare la polizia hanno bloccato il cancello. Solo una cosa, avete preso tutto questo tipo di precauzioni, avete fortificato in qualche modo la casa, abbiamo fortificato, però non sei ricorsa alle armi. Mai, io non ricorro, non ho neanche mai regalato ai miei nipoti, che sono tanti, un'arma giocattolo. Quando dobbiamo girare un film dove c'è delle armi, ci sono degli attrezzi di scena, ho paura anche lì. Le pistole mi danno molta ansia e da sceneggiatrice, posso dire una cosa da sceneggiatrice, siccome le pistole emozionano, ed emoziona anche quando si gira, tu avrei avuto un piccolo esplosivo nella tua scena, la piccola carica, perché arriva il colpo e l'attore sente, perché c'è un piccolo esplosivo, per cui è molto emozionante. C'è un bellissimo film, anzi ce ne sono due che io vorrei consigliare ai tuoi ospiti. Uno è Bullying Columbine, che ha scritto Michael Moore, grandissimo film, dove si racconta come il possesso delle armi possa creare l'uso indiscriminato delle armi. Columbine era un'università, come sapete. Dove è avvenuta una strage tremenda. E l'altro è il giocattolo, il giocattolo che è un grande film di Montaldo, dove un mite, un mite, uomo comune, che poi era Manfredi, entra in possesso di una pistola grazie ad un'amicizia con un suo amico poliziotto e lì cambia la sua psicologia e diventa il giocattolo. Il termine è molto forte perché è un giocattolo, un'arma, ma è un giocattolo che può uccidere.